Siglata questa mattina una convenzione tra Regione Liguria e vertici dell'azienda Il Centro di Romito SRL. Attraverso un'erogazione liberale l'azienda effettuerà a proprie spese la progettazione esecutiva e la costruzione di un tratto di arginatura in sponda destra del fiume Magra in località Romito Magra, in corrispondenza della confluenza del torrente Rio Maggio. Per la prima volta una società privata interviene attraverso una propria erogazione liberale non solo nella progettazione ma anche nella realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del territorio. Direi che è un passaggio fondamentale per la sicurezza della piana del Magra, in particolare del comune di Arco, nella frazione di Romito ed è veramente il primo caso in Liguria in cui il privato in interazione con la Regione Liguria collabora alla messa in sicurezza del territorio. Credo che sia veramente un passo significativo che potrà aprire la strada anche ad altre situazioni come questa ma per me che faccio difesa del suolo, per la giunta regionale che ha nella messa in sicurezza dei territori e soprattutto di questi territori che hanno tanto subito in passato rispetto ai venti di esondazione ed alluvioni è evidentemente un passo avanti per quel nostro obiettivo finale, cioè quello di completare tutta la messa in sicurezza è la mitigazione del rischio idraulico dell'asta del Magra e la parte di Batifoglio Romito è, da questo punto di vista, dalle parti mancanti, quella diciamo più centrale nella nostra attività quotidiana. Il tratto di arginatura in questione ha una lunghezza di circa 270 metri. L'intervento del valore di oltre 835 mila euro si inserisce nell'ambito del progetto più complessivo finanziato dalla regione Liguria per un primo stralcio di oltre 5 milioni di euro. Il quadro di oggi prevede un intervento economico di un imprenditore di circa 800 mila euro è un progetto complessivo da 10 milioni, già finanziato per larga parte ne abbiamo messo a stanziamento un altro pezzettino la settimana scorsa in giunta con un milione e tre siamo quasi alla cifra dei 10 milioni per completare tutti gli interventi abbiamo anche, sottolineo, nella zona di Batifollo previsto una variante al progetto che abbiamo ereditato dalla provincia perché ritenevamo che ci fossero ancora delle abitazioni che potessero essere messe in sicurezza. Duplice il traguardo raggiunto grazie a questa convenzione, da un lato si garantirà la realizzazione di un ulteriore tratto fondamentale di messa in sicurezza del fiume Magra e dall'altro sarà sostenuto lo sviluppo economico delle aree retrostanti. Noi intanto dobbiamo per forza aspettare che Regione Liguria completi la parte sua interamministrativa appena noi avremo l'autorizzazione di iniziare questi lavori, come dicevo prima la nostra intenzione è di farli prima dell'autunno in modo da anticipare le eventuali piogge in modo che è un motivo in più per mettere in sicurezza per poter cantierare perché è una delle condizioni che noi abbiamo. Grazie.